Ci siamo, ci siamo! Vai! Eia! Ci siamo! Sta per finire, te lo sto dicendo! Chiami a voi, oh! Se vuoi fare orario, non hai un cazzo da fare o devi prendere tempo, vieni qua, tranquillo. L'hanno chiusa di nuovo! Qua! Vai! Due! Qua! Un ugazzino! C'è un ugazzino! Ah no, è aperta, è aperta ragazzi! È aperta, è spesa! Quando si può andare qua qui? Guarda! Vai, è una buona notizia! E poi sapete che cosa facciamo? La rotonda nella rotonda! Ma cos'è? Fermo là, Lelio! Che vi faccio la rotonda nella rotonda! Siamo pazzeschi siamo! Siamo riusciti a fare una rotonda in una rotonda! Capito? È una sorta di matrioska praticamente! Oh mio! Allora, il video è stato fatto ad cut, insomma, perché? Perché c'era almeno dieci minuti lì, ok? Quindi, ascolta, io ti consiglio ai miei amici, perché se ci vogliono passare un bel quarto d'ora, vogliono prendere tempo, vogliono passarci l'ora, vai via canello, ti metti in fila, e fulati che il tempo già passa. Poi vedo che mi chiudono un pezzo, me ne aprono un altro, mi fanno una rotonda dentro una rotonda o rotatoria per quelli intelligenti, e dico, no, ma è pazzesco! Però se ci pensi, una volta finita quella rotonda, ragazzi, sarà una figata! È un po' come quando ci hanno fatto il poeto fiammante, no? Cantiere aperto, c'è ti sciuscì a un rotto, non faceva guardarlo, però vai adesso! Eh amici, guarda adesso, sembra Miami Beach! It's Miami Beach! Miami Beach ce la sogna una spiaggia come il poeto! Ah no! Eh ragazzi, è così! Cagliari è lenta, è lenta, però una volta finito è... Un po' boi!